Allora, da ieri c'è l'ufficialità sulle date dell'accensione del riscaldamento, perché il Ministro Cingolani ha firmato l'apposito decreto, un decreto che divide l'Italia in zone, in base appunto anche alle temperature medie delle singole aree in questione. Stiamo vedendo, per chi ci segue in tv e sui social, la cartina che divide l'Italia e l'Emilia Romagna e quindi anche la provincia di Rimini si trovano nella zona E. Nella zona E il riscaldamento potrà essere acceso a partire dal 22 ottobre fino al 7 aprile per 13 ore al giorno. Zona B e zona C si parla di riscaldamento che accenderà nella zona B sempre dall'8 dicembre e fino al 23 marzo per 7 ore al giorno, in zona C dal 22 novembre al 23 marzo per 9 ore al giorno. Poi andiamo nelle zone un pochino più freschine d'Italia, la zona D 11 ore giornaliere di accensione dall'8 novembre al 7 aprile. Siamo all'arancione, giusto per darvi anche i colori perché Andrea non li vedi i colori, però ve li do io. Zona E, 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile come anche la provincia di Rimini e praticamente l'Emilia Romagna e anche altra parte del nord e poi abbiamo la zona F che sono poi le regioni più montuose, più al nord ma anche una parte della Liguria mi sembra guardando la cartina dove non c'è nessuna limitazione. Dove non c'è nessuna limitazione? E anche una piccola fascia del centro Italia, vedo, colorata. Ma certo, perché sono le zone più montuose, diciamo così, dove non ci sono limitazioni. Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un'ora al giorno, spiega una nota del Ministero. Il periodo di funzionamento della stagione invernale 22-23 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio. In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali con proprio provvedimento motivato possono autorizzare l'accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati dal decreto, poiché per una durata giornaliera ridotta. I valori di temperatura dell'aria sono ridotti di un grado centigrado. Al fine di agevolare l'applicazione di queste disposizioni, poi Enea pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che poi, qua si parla dei condomini e degli amministratori di condominio, potranno rendere disponibili ai condomini. Quindi ci sarà un vademecum su come far funzionare in pieno rispetto di queste nuove normative i riscaldamenti. Naturalmente ci sono delle esenzioni, in particolare questi limiti non si applicano agli edifici adibiti ai luoghi di cura, alle scuole materne, alle esili nido, alle piscine, alle saune e assimilabili, agli edifici adibiti alle attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente con fonti rinnovabili. Queste sono le novità arrivate nella giornata di ieri. Esatto, importanti queste novità, ci riguardano tutti e quindi ci sembrava una notizia comunque interessante da condividere con voi. Poi è chiaro che l'intenzione è dal 22 ottobre al... Poi se non dovesse essere tanto freddo immagino che molti cercheranno di posticipare il più possibile l'accensione del riscaldamento quest'anno. Adesso insomma c'è quel più 59% già stimato per quanto riguarda l'energia elettrica, ancora da valutare quello del gas che da quest'anno, viste le particolari condizioni, l'autority andrà a definire di mese in mese nel periodo ottobre-dicembre. Con poi da gennaio per quanto riguarda l'energia elettrica ci sarebbe la cessazione del mercato tutelato, ma c'è stata la richiesta di posticipare di un anno questo passaggio. Insomma è stato posticipato più volte e andrà a cadere proprio nel periodo forse peggiore per una transizione di questo tipo. Vedremo poi se dal governo arriverà una risposta positiva. Sulle pagine del resto del carlino di oggi, a livello di pagine nazionali che vi mostro, questo è il grafico che dovrebbe aiutare a risparmiare. Siccome risparmiare è sempre buona cosa, noi vi leggiamo questi consigli. Radio Icaro, radio di servizio. Come consumare meno? I consigli di ogni giorno sono 10. Vediamo se li eseguite tutti o se sono cose che non fate. Flaggiamo, come si dice oggi, contemporaneamente. Il primo di questi consigli è quello che poi ci viene richiesto a livello nazionale, vale a dire ridurre da 20 a 19 gradi. Questo dovrebbe comportare, naturalmente si parla sempre della casa di dimensioni medie con la famiglia, appunto, col nucleo medio familiare, un risparmio di 178,63 euro all'anno. Ma quelle che tenevano a 22 gradi perché piace stare in casa in maglietta, se lo riducono a 21 va bene lo stesso? È meglio scendere a 19? No, però se la 22 lo riduci a 19 praticamente ti danno dei soldi. No, non credo proprio. Forse prima spendevi moltissimo e adesso spenderesti moltissimo più moltissimo. Doccia e riscaldamento e doccia erano poi gli esempi che c'era fatto anche il direttore commerciale di SGR Pastesini. Riduzione da 7 a 5 minuti e 3 gradi della temperatura, 252 euro all'anno di risparmio. Non lavarsi viene messo come ipotesi. Andiamo su altri piccoli accorgimenti, questi sono diciamo quelli più impattanti. Ce ne sono altri un po' più piccoli che però sommati potrebbero dare un po' di... Quindi doccia più breve e un po' meno calda e abbassamento di un grado, però stiamo parlando da 20 a 19 gradi. Esatto, da 20 a 19. Fornelli. Abbassare il fuoco dopo l'ebollizione permette di risparmiare mediamente 12,46 euro all'anno. Abbassare il fuoco o spegnerlo? Qua dice abbassare il fuoco dopo l'ebollizione. Lavatrice. Posso dire una cosa? Su questa ci sono, chi segue soprattutto, no, no, Matteo dice che può anche spegnere, però ci sono sui social quelli che fanno delle riflessioni e quindi dicono sotto casa mia c'è un ristorante che fa menù completo a 8 euro e loro fanno i calchi e dicono quasi quasi vado a mangiare tutti i giorni al ristorante. Vabbè, andiamo avanti. Ci stanno arrivando tanti messaggi, poi li andremo a leggere, abbiate un attimo di pazienza, continuiamo a dare i consigli utili in questo momento di grande radio tv. Lavatrice. Ridurre i lavaggi da uno al giorno a uno ogni due giorni. Perché? Tu fai la lavatrice tutti i giorni? No. La rispetto a tre giorni senza farla, poi ne faccio due o tre nella stessa giornata. Esatto. Esatto. 52,29 euro di risparmio all'anno. Buono, buono. Lavastoviglie. Lavastoviglie. La ridurre i lavaggi da due a uno al giorno, ma chi è che ne fa due? Beh, no, dipende che famigliai, ci sta. Poi se cucini tanto anche, se cucini due volte al giorno, sai, una famiglia grande da mettere a tavola sia a pranzo che a cena. Questo permette di risparmiare 74,69 euro all'anno. Vi ricordo che questi sono consigli pubblicati sul resto del carlino, la fonte però è Enea che è l'autore. Parliamo sempre dell'appartamento medio e della famiglia media, che adesso in Italia si fa fatica a capire quale sia la metratura media e la famiglia media, ma vabbè, andiamo avanti. Staccare la spina. Staccare le spine di tutto? Staccare la spina della lavatrice non in funzione permette di risparmiare un euro e 58 all'anno, solo che io ce l'ho in un punto tale che se devo staccarla, poi quell'euro e 58 lo spendo dall'ortopedico. Esatto, ma neanche, devi andare a fare i massaggi, tutte le spine dovresti staccare appena hai usato gli elettrodomestici. Qua fa l'esempio della lavatrice però immagino che sia una cosa che si può estendere. Deve essere le prese intelligenti. Frigorifero. Ad un certo punto dice Alexa spegni tutto e lei spegne tutto. Andiamo sul frigorifero. Impostare il frigorifero in modalità basso consumo per 15 giorni permette di risparmiare 2 euro, poco più all'anno. TV, decoder e DVD, ormai chi non ce li ha, non lasciare TV, decoder e DVD in stand-by permette di risparmiare 4,50 euro all'anno. Scusa, non lasciare o lasciare? Non lasciarli in stand-by, quindi spegnerli. Quando spegni vai a dormire spegni tutto. Spegni tutto, non lasciare neanche la lucina. Esatto. Forno. Ridurre il tempo di accensione del forno permetterebbe di risparmiare quasi 14 euro all'anno. Eh beh, però non sono tanti 14 euro, uno dice a me piace cucinare, mi piace fare i mani caretti, dopo tu dici aggiungi tutto, lo so, è evidente. Ridurre l'accensione delle lampadine del 13%, che vuol dire un'ora al giorno per ogni singola lampadina, bisogna fare il conto poi, permette di risparmiare 11,72 euro all'anno. Quanto? 11,72 euro all'anno, sommandoli tutti, ovvio che non si potranno, non c'è il totale, non ci hanno fatto il totale, non ci hanno fatto il conto. Però comunque questi sono le varie voci, i dieci consigli utili. Che non sono ancora i dieci comandamenti, i laici, ma quasi, questa è una situazione. Poi ovviamente c'è sempre l'indicazione di quella che è la casa ideale. Com'è la casa ideale? La casa ideale per consumare merito. Esatto, c'è i pannelli fotovoltaici. Io ce li ho, poi vai. Cogenerazione, crea energia termica da quella solare, accumulatori di energia che consentono di conservare l'energia prodotta. Poi? Non è che è una peopera. Il tetto, la coibentazione, permette di isolare l'esterno. Pensate quanto guadagna questa donna. No, ma non l'ho fatto io il tetto. Fortunatamente la casa ci sono da lui. Capotto termico. Non ce l'ho. Oltre a evitare il passaggio di calore dall'interno all'esterno e viceversa, isola acusticamente il palazzo. Il riscaldamento, dovrebbe isolare acusticamente Simona, dall'arresto degli abitanti della casa, sarebbe più semplice. Il riscaldamento a pavimento permette una più omogenea diffusione del calore, quindi il contenimento dei consumi. È il purificatore addolcitore di acqua, che consenti di avere acqua minerale allungando la vita di tubi ed elettrodomestici. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Basta. Poi ci sono gli infissi, quelli vecchi sono responsabili del 30% della dispersione di calore. In questo momento in cui dobbiamo risparmiare, se devi cambiare tutti gli infissi di casa, altro che bollette della luce e del gas, diventa veramente un investimento importante. È vero che c'è il 110, via dicendo. Le luci a led. Ci vale, chi è che non ha più? Consuma il 5% di una lampadina normale. Eh beh, il 5% gli elettrodomestici. Non ha più di legere quelli di classe A, anche se adesso col cambio di classificazione, anche quando vai in giro nei grandi posti, vedi classe F, classe G, che sono quelli che una volta erano in classe A, a più, a più, più. Solo che a livello europeo è cambiata la classificazione dei consumi. E non ci si capisce più niente. Secondo me uno classe A lo paghi come prenderne 4 in classe G. Quindi infatti ti dice delle classificazioni migliori, non ti dice in classe A. Ti dice quelli di classe A qua. Ti dice classe A? Sì. Quindi è rimasto indietro forse. Caldaia e condensazione consumano il 20% in meno. La pompa di calore permette di risparmiare dal 30% al 60%. E poi ricordano i vari bonus che sono attualmente in vigore, benché insomma adesso bisognerà capire quali saranno le indicazioni del governo e che permetterebbero di mettere in fila anche questi interventi a prezzi più sostenibili, sempre che non ci siano intoppi strada facendo. Ed è il bonus per l'efficientamento energetico che è il 110%, il bonus facciate quindi che permette cappotto termico e intonaco 90% e l'eco bonus per caldaie, finestre e infissi tra il 50% e il 65%. Qua si parla di crediti d'imposto, quindi soldi che ritornano indietro. Poi per il super bonus in realtà c'erano soldi che non dovevano neanche ritornare indietro, però sappiamo che vista l'attuale situazione ci sono molte realtà che chiedono comunque di anticipare le spese vive. Io dovrei comprare l'avatrice nuova. Il bonus per l'avatrice. Il bonus per l'avatrice.